e lasciamo intervenire ma non diciamo che si silenzio l'onorevole Porto e me grazie presidente dicevo che in fine attenzione si leggeva a prendere pure la tradizione di liste oltre a vittoriamente, una volta escluse le traduzioni all'articolo 2 e 3 per l'innamatica tutta che ci sia il Regno Lugano e di Partizio del Polizzo e noi ci dicevano che si trattano la vostra cosa che non fa è che io la mia regola è una rigola e che si stanno inizio avescendo la vostra per avere un'ora della posizione che si sta iniziando a rinnamatica ma non mi piace Grazie. Grazie.